Scelta per far votare online la segreteria nazionale, il segretario o la segretaria nazionale modificherebbe la natura del Partito Democratico, sarebbe poco rispettosa nei confronti delle donne e degli uomini che tutti i giorni iscrivendosi al partito, facendo sacrifici e con grande gratuità si occupano della nostra comunità. Se ci deve essere una discussione su una prodo digitale della nostra forma partito, la faremo a tempo debito e con le modalità giuste. A tempo debito vuol dire dopo il congresso e con le modalità giuste vuol dire coinvolgendo gli iscritti del Partito Democratico. E' qualcuno che secondo lei vuole cambiare la natura del partito e indebolirlo? No, io non so se lo vuole indebolire, io credo che una decisione così a 40 giorni dal voto cambierebbe la natura del Partito Democratico, io lo credo, sono convinta di questo, lo dico con grande mitezza, gentilezza, disponibilità, io sto facendo politica, sto facendo un altro mestiere perché vado dalle persone, dai nostri iscritti, l'incontro, sono stata in Calabria, Brescia, Bergamo, ieri, domani sono a Siena, faccio una campagna elettorale come se si dovessero prendere le preferenze. Perché ho deciso che c'è la politica che viene prima di tutto.